E' una guerra tra poveri questa, lasciamo lavorare tutti. Andrea Giuliani di Confartigianato Replica, Confcommercio, che il mese scorso aveva annunciato un esposto al Comune contro le forme di abusivismo nelle concessioni balneari. Qualche operatore poi ha riferito a Giuliani di diversi esposti, firmati addirittura da associazioni di categoria, ma io, precisa responsabile, non mi sono mai permesso di presentarli nei confronti degli imprenditori. Qui c'è una guerra tra poveri in atto, diciamo che nel centro storico ci sono dei comitati che si scagliano contro altri comitati, commercianti che si scagliano contro altri commercianti, è una cosa che assolutamente non va bene, bisognerebbe cercare di non guardare sempre il giardino di casa, ma guardare oltre. E anche per quanto riguarda questa battaglia degli esercenti contro gli operatori balneari mi sembra eccessiva. Quindi noi stiamo organizzando tutta una serie di iniziative per animare le serate, con l'unico obiettivo di rendere appetibile e gradita la vacanza dei turisti. Giuliani poi ci tiene a precisare anche un altro aspetto. I nostri operatori sono regola su tutto, per cui quelli delle spiagge centrali non cucinano, perché non possono cucinare, ma semmai fanno la cena della gluppa o usano dei catering o dei ristoranti, tra l'altro che sono nella zona retrostante, e rispettano gli orari. Gli orari sono fino alle 24 e una volta alla settimana fino alle 2. E mentre Fano prosegue la polemica, Pesaro, l'amministrazione comunale, grazie al nuovo piano spiagge ormai imminente, dà la possibilità di trasformare i baretti gastronomici, che al momento possono soltanto somministrare, ad esempio, piadine, insalate o macedonie in ristoranti. Ci considerano due manufatti, uno di 42 metri quadrati per la somministrazione, quindi anche per la ristorazione, e un altro di 15 metri per ufficio di direzione. Con una naturalezza incredibile l'amministrazione comunale ci propone questo, ci chiede questo perché loro sono profondamente convinti che più servizi si danno e meglio è per il turismo pesarese e quindi per la comunità.